Prima l'esomenenza ascolterà, tutto il resto sarà da decidere, aspetterà lui decidere con Santo Padre successivamente. E' tutta una serie di incontri, sarebbe discriminatorio adesso menzionare l'incontro perché è più una missione di lavoro, di studio. Poi si valuterà successivamente su che cosa porre gli accenti. Adesso invece conviene che li realizzi l'incontro, quindi si cerca di lavorare.